La Campania chiede provvedimenti più rigorosi e contraria al rilassamento, all'apertura della mobilità. Tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a Natale? Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook. In queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro paese, ha aggiunto. Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie e dobbiamo avere il coraggio di dire che quest'anno Natale e Capodanno non esistono, altrimenti andiamo al disastro.